Il piatto degli antipasti, eh? E chi è l'olio? Perché? Antipasti! Oggi viene a piove! Ma monsignore, fate l'antipasto perché oggi non ho fatto il secondo piatto, ecco qua! Volevo dire! Eh beh, volevo dire! Ma vale che basta, no? Volevo dirlo! Ho l'uno o l'altro? Poi ho l'antipasto, oggi con due alti, no? Volevo dire, eh, Grecia! Eh? Secondo te questo sarebbe l'antipasto? Perché non è l'antipasto? Tre olive! Tre olive! Eh beh, quante persone siamo a tavola? Tre persone! Un'oliva a testa, è chiaro? Un'oliva poi è pesante, fa male! E cos'è? Mmm! Che c'hai noi? Il dente del giudizio! Il dente del giudizio? Il dente del giudizio! Oh, che dolore! Adesso lo stai a mettere! Che dolore! Volevo dire, fammi vedere! Ah, vieni qua che ti voglio vedere! Mi stavo strozzando! Eh? Mi è passato! Mi è passato! Il dolore mi è passato! Tutto ad un tratto, così? Tutto ad un tratto! Non è possibile!